Allora, buongiorno a tutti, sempre qui dal Parco della Caffarella, siamo sempre praticamente in diretta, è mezzogiorno e ho approfittato di questa occasione qui di sole, visto che probabilmente nel pomeriggio è prevista pioggia e pure domani non so se le previsioni sono buone, di parlare di un grande gruppo post-metal Doom, che avevo già accennato in bacheca diverse volte e ho raccomandato, i Caneit, formati nel 2000 a New York da veterani del genere sia Metal che Doom. Allora, innanzitutto è un supergruppo, c'è James Plotkin che è un chitarrista, oggi tra l'altro è anche anziano, ha 74 anni, ma che viene da uno dei primi gruppi post-Sledge e Doom della prima ora di Old, che incidevano per la Eureka Records negli inizi degli anni 90, poi dopo James Plotkin ebbe una carriera poi dopo postuma, cioè postuma successiva, agli inizi degli anni 2000, quando si accasò alla Cranchi e fece della musica ambientale un po' alla Brianino, di dischi discreti, non capolavori, ma comunque di un ambientale discreto alla Brianino, mi ricordo uno che era tipo A Play Referral Blur e Mosquito Coast, mi sembra che fossero i due titoli, io non ce li ho perché non li comprai, però insomma a memoria li ricordo, poi ebbe altri progetti e alla fine si unì con questi Caneit insieme al batterista dei Blind Idiot God, che è uno dei più grandi gruppi anticipatori anche del matt rock e di certo rock d'avanguardia vicino a John Zorn, i cui primi due album sono capolavori assoluti, il primo per la SST dell'87 e anche il successivo per la Enemy dell'88, poi c'è anche all'interno Stephen O'Malley dei Sun O, altro gruppo storico del Doom, con il cantante Alan Dubin degli Old, che era un cantante piuttosto dotato anche vocalmente, che può ricordare in certi punti addirittura David Yeo dei Jesus Leeds, quindi insomma un bel gruppo ben assemblato di veterani, anche se non più giovanissimi, ed esordirono nel 2002 con un album omonimo Caneit per la Southern Lord, la Southern Lord era proprio specializzata in questo genere Doom, in cui ci incidevano appunto anche i San No. Allora, il disco è di lunga durata ma è composto solo di quattro lunghe jam ed è un'esperienza catartica proprio di immersione di suono estremo, cioè è un compendio di sonorità più estreme e avanguardistiche del Metal e del Doom. Allora, qui ho scritto, sono quattro lunghe jam di Doom psichedelico e ipnotico, Peace or Quiet è la ritmica è lenta e pesante, i feedback piuttosto lugubri e inquietanti, questo nel primo pezzo. Skin Coat è la più depressiva, quindi c'è anche qualcosa di cosiddetto Depressive Metal, quando ancora non si chiamava così, perché Depressive Metal poi è venuto in realtà più vicino al Black Metal, però insomma qui l'effetto è abbastanza depressivo. Under Rotting Sky, con un basso e chitarra debitamente distorti, cozzano con la voce isterica di Dubin e No Joy è catacombale come non mai, una marcia funebre che pare da fare da colonna sonora di un film horror, sul ritmo marziale degli strumenti che potrebbero ricordare delle campane a morto. Quindi insomma è un disco tutt'altro che allegro, sicuramente molto più scuro di tanta roba dark che c'è in giro, ma il tutto è, ecco, è tutto molto plumbo, come sempre immerso in una fitta nebbia, una fitta nebbia proprio perenne, e questi anche come nei tool, come nei tool di Lateralus, anche qui i pezzi sono tutti un continuo, cioè nel senso sono uno concatenato all'altro e il disco va ascoltato proprio senza interruzione di pezzi, con una sua unica continuità, perché quello è proprio il suo effetto. Poi insomma, beh, il disco dura tipo una 45 minuti, quindi insomma non è una cosa poi alla fine impossibile da ascoltare per intero. Ecco, il vero capolavoro, perché è uno dei dischi più importanti del Doom mai fatti, verrà l'anno successivo, nel 2003, con Things Viral, sempre per la Southern Lord, che inizia con la Desolata Connected, che pare appartenere a uno scenario post-atomico, in cui il virtuosismo del cantante viene esaltato al meglio, che appunto qui ricorda effettivamente il David Yeo di Jesus Lizard, e tutto però finisce in un clima di abbandono totale, cioè praticamente come se il cantante cantasse su uno staglio sonoro, completamente desolato, in uno scenario post-atomico, e di una città fantasma, un po' come, che ne so, un nuclear winter, dopo che c'è stata un'esplosione nucleare, questa voce che vaga così disperata, su un tappeto sonoro praticamente quasi catatonico, inesistente, e quindi insomma anche angoscioso. Poi c'è Feels, con l'inizio di chitarra detonante, con la voce in background, per metà del brano la voce è solo sullo sfondo, per poi apparire in tutta la sua brutalità e anche bruttezza sguaiata, questo verso la fine, cioè praticamente il cantante si riscatta la fine in versi anche piuttosto sguaiati e animaleschi. Too close to an house to touch è invece la più estrema dell'otto, con la chitarra e basso condotti all'estrema potenza, e tutto su un tappeto di suoni astratti. Quindi questo è il pezzo, quello diciamo più detonante e forse anche, volendo, sperimentale insieme al primo. Il Doom Metal di Dead, invece, nonostante i suoi climi angosciosi, sembra quasi un momento di retenzione, in tutto questo inferno sonoro, e qui c'è sempre qualche elicottero che passa su questo parco. Ecco, quindi, questo è un capolavoro per me del moderno Metal, è uno dei dischi più importanti di Metal degli anni 2000, è sicuramente uno dei vertici del Doom tutto, e del Doom ovviamente quello d'avanguardia, non il Doom quello proprio più canonico che poteva starci anche negli anni 70. Poi, invece, l'EP Capture and Release del 2005, su un'altra etichetta, contiene solo due tracce di 43 minuti totali. Allora, Capture è il classico macina sassi Doom Metal, con i suoi rallenti, riprese e, diciamo, storture sonore e fastidi anche alle orecchie, però forse è più canonica rispetto all'altro brano, che è l'altro brano che è Release di 25 minuti, che è un'efficace affresco espressionista del senso della morte e del male. Cioè, questo dà veramente l'impressione proprio di avere qualcosa di malefico, qualcosa di estremamente pericoloso, o di panico di morte imminente, e lo riesce a rendere bene in musica. Appunto, c'è scritto, tra visioni di condannati a morte, di eroi nomini in crisi di overdose, senso di angoscia estrema, di un tentato suicida, cioè di qualcuno che si vuole o buttare sotto un autobus, o da un palazzo, o sotto la metropolitana, tutti combinati insieme, quindi insomma è un bel polpettone di senso marcio, cioè marcio, no, perché poi marcio no, diciamo, perché non è come l'effetto degli ansene che è nauso e bondo, questo è qualcosa sempre che ti trasporta in un mondo un po' onirico, perché è sempre comunque una chiave psichedelica, però ecco dà questo senso di angoscia, che stai lì per morire, per agonizzare, e tutti combinati insieme. Gli ultimi minuti sono pura catastrofe sonora, dopo ben 14 minuti di doom catatonico e infernale. Ecco, questi sono i tre dischi fondamentali dei Kineight, che io consiglio molto caldamente, si trovano a comprare tranquillamente, costano, vi dico, su Amazon, mi sembra, sui 17 euro, a coso. Potete comprarli, perché sono grandissimi dischi, però si trova tutto su Spotify e si trova anche su YouTube. Io l'ho postato più volte, adesso li riposterò, perché questo è un gruppo che vedo che è poco conosciuto, penso che Lost conoscerà, però voglio ricordarle anche agli altri, quindi adesso riposterò di nuovo il secondo album, che è il loro capolavoro, l'ho riposto e dico che la clip è uscita, e così vi ascoltate il disco insieme a alla visione del mio video, che spiega un po' la situazione del gruppo. Gli altri dischi successivi loro, secondo me, non sono all'attezza e infatti non ne parlo. Bastano questi tre per far assurgere i Kineight alla gloria del doom metal tutto. Allora, per adesso è tutto, buon pranzo a tutti e vado a mangiare pure io perché è ora di pranzo. Ciao ciao!